Come verificare se per il corrente anno accademico devi pagare la seconda e la terza rata, con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 31 maggio, anche in base all'eventuale domanda di beneficio presentata. Hai richiesto dei benefici compilando la DUB? Non dovrai pagare la seconda e la terza rata se hai presentato domanda di borsa di studio e se hai risultato beneficiario o idoneo alla borsa di studio, salvo che tu sia iscritto al primo anno fuori corso. O se invece hai presentato domanda di riduzione dei contributi e hai un'ISA per l'università inferiore a 22.000 euro e ricadi in una delle situazioni specificate. Se non vedi la fattura della seconda o terza rata, ma non ricadi nei casi indicati, rivolgiti alla tua segreteria e chiedi di verificare la fatturazione delle rate. Per verificare la situazione dei tuoi pagamenti per il corrente anno accademico, entra nella tua area riservata di S3. Ricorda che il contributo universitario viene versato in tre rate come di seguito riportato. Prima rata, 150 euro di acconto contributi, oltre a tassa regionale e imposta di bollo, entro il 15 ottobre. Seconda rata, 50% dei contributi rimanenti dovuti, entro il 31 marzo. Terza rata, 50% dei contributi rimanenti dovuti, entro il 31 maggio. L'emissione degli avvisi di pagamento pagopà delle rate da pagare avviene 20 giorni prima della scadenza di ciascuna delle rate. Eventuali differenze di importo tra seconda e terza rata possono derivare dall'applicazione degli esoneri degli incentivi previsti dal regolamento di contribuzione studentesca pubblicato sul web nella sezione Concorsi. Cliccando su Visualizza si aprirà una nuova finestra con le sezioni Debiti fatturati e Rimborsi da erogare. Leggi attentamente il contenuto di questa pagina per sapere se devi pagare la seconda e o la terza rata universitaria. Nella sezione Debiti fatturati trovi le fatture, importi positivi, che devi pagare o che hai già pagato, e Rimborsi, importi con il segno negativo, che l'università ha già erogato a tuo favore. Nella sezione Rimborsi da erogare trovi Rimborsi in rilavorazione, importi con il segno negativo. Questi rimborsi sono in lavorazione, relativi alle voci specificate, contributi universitari, tassa regionale, eccetera, e sono somme che l'università ti restituirà, poiché in base ai calcoli effettuati è emerso che hai versato importi maggiori rispetto al dovuto. Per il correntiano accademico non dovrai pagare la seconda e la terza rata universitaria se nelle sezioni Debiti fatturati e Rimborsi da erogare la voce Contributi studenteschi ha segno negativo. Nelle successive slide puoi vedere alcuni esempi di dettaglio delle informazioni, visibili cliccando sul numero di fattura. Nella sezione Debiti fatturati, cliccando sul numero di fattura con importo positivo, puoi visualizzare le informazioni di dettaglio, con indicazione degli incentivi e degli isoni riapplicati. Nel dettaglio fattura visualizzi l'importo che hai già pagato o che devi ancora pagare. A seguire trovi le informazioni aggiuntive, ossia gli incentivi e gli isoni riapplicati a tuo favore. In fondo alla pagina trovi il dettaglio delle voci che concorrono all'importo della fattura relativa alla rata. Nella sezione Debiti fatturati, cliccando sul numero di fattura con importo negativo, puoi visualizzare le informazioni di dettaglio, con indicazione degli incentivi e degli isoni riapplicati. Nel dettaglio fattura visualizzi il rimborso che ti è stato regato. A seguire trovi le informazioni aggiuntive, ossia gli incentivi e gli isoni riapplicati a tuo favore. In fondo alla pagina trovi il dettaglio delle voci che concorrono all'importo della fattura relativa alla rata. Riceverai il rimborso t'aspettante entro 60 giorni dalla data operazione, data di accertamento del diritto rimborso, tramite bonifico sull'Iban, del conto corrente o carta prepagata, atta intestato o cointestato, che è inserito via web. Non sono accettati iban intestati a terzi. Segue le istruzioni indicate nella slide per inserire o aggiornare l'Iban. Non è previsto alcun rimborso degli importi versati in prima, seconda o terza rata. Il rimborso della tassa regionale è previsto solo in caso di doppio pagamento. La contribuzione è dovuta dallo studente per l'intero anno accademico per cui risulta iscritto. In nessun caso, la mera omissione del pagamento della contribuzione equivale a rinuncia implicita agli studi. In caso di rinuncia agli studi, a partire dall'anno accademico 2021-2022, è previsto il pagamento delle rate scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia agli studi. È previsto l'esonero dalla tassa regionale nei confronti di studenti che, trasferiti da altre sedi del Veneto, l'abbiano già versata per il medesimo anno accademico presso la sede di provenienza. In questa slide trovi l'elenco degli isoneri che vengono applicati dall'Università di Verona. Fai attenzione a modalità e a termini di applicazione di questi isoneri, consultando l'allegato del regolamento in materia di contribuzione studentesca pubblicato sul web nella sezione concorsi. In questa slide trovi l'elenco degli incentivi applicati dall'Università di Verona. Questi incentivi vengono applicati d'ufficio, quindi senza una richiesta specifica da parte tua, fino a concorrenza dei contributi dovuti. Verifica nel dettaglio informazioni aggiuntive se ti sono stati assegnati correttamente e rivolgiti alla tua segreteria studenti per informazioni.